Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it Oggi vediamo la recensione di questa Action Cam venduta su Amazon dal venditore Levin si chiama Action Cam Levin trovate comunque il link nella descrizione del video tutto questo ben di dio viene venduto ad un prezzo di circa 89,99 euro dico circa perché poi magari tra qualche mese può cambiare se siete interessati ai più veloci c'è un bel codice del 20% di sconto in home page su www.tecnofan.it quindi recatevi lì se la volete acquistare ma prima di decidere se acquistarla o no vediamo come si comporta innanzitutto confezione davvero molto molto ricca questa è la scatola che adesso andiamo ad aprire e troviamo dentro veramente tantissimi accessori ma che cos'è questa? innanzitutto la Action Cam è una Action Cam con un sensore da 14 megapixel questa è la custodia per andarci sott'acqua o comunque per utilizzarla se facciamo sport estremi ad esempio sci sulla moto eccetera 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 ed è in grado di registrare video in full HD fino a 30 fps e di registrare video in HD a 720p fino a 60 e 120 fps abbiamo nel retro un display da aspettate che apro la custodia un display integrato da due pollici che ci permette di gestire in tutta tranquillità la fotocamera mi scuso per questa luce un po' pessima ma oggi c'è veramente un cielo grigio è tardi non riuscivo a cambiare orario per fare la recensione quindi mi dispiace ma la luce purtroppo è quella che è ritorniamo sempre alla nostra Action Cam dimensioni davvero molto contenute qual è la cosa buona? è che tutti gli accessori che vedete qua dentro sono compatibili con l'attacco famoso di GoPro quindi assolutamente nessun problema con la compatibilità quindi questa è la Action Cam che vedremo poi in dettaglio più avanti questa è la custodia impermeabile andiamo a vedere adesso cosa offre la confezione la confezione offre un panno per pulire che è sempre davvero molto comodo questo è un gancio con l'adesivo 3M per attaccarci sopra altri accessori come ad esempio questo che vedete basterà inserirlo e poi agganciarlo qua e cosa serve questo? serve per attaccarlo magari sul casco, sulla moto, da qualche parte sono tutti adesivi 3M quindi assolutamente sono garantiti chiaramente se poi ci andate sfrecciate a 200-300 km orari non so cosa potrà succedere questa è una seconda batteria davvero molto utile quindi abbiamo un set di due batterie che è sempre molto comodo un secondo coperchietto per il case anche in questo caso molto utile perché a volte non si sa mai con la differenza che questo ha due aperture laterali quindi cosa serve? serve per registrare l'audio e da utilizzare quando andiamo in moto perché non è da utilizzare quando andiamo sott'acqua perché altrimenti diciamo addio alla nostra fotocamera però come vedete ha delle aperture laterali che servono per registrare l'audio e riparare il vento posteriore quindi questa serve da utilizzare nel caso andassimo in moto abbiamo il caricabatterie con il cavetto abbiamo la clip da cintura abbiamo tutti i vari laccetti da polso e stringhette per fissarla qua ci sono altri biadesivi con questo cavetto metallico per fissarla in sicurezza perché ad esempio quando la mettiamo sul casco se non la vogliamo perdere ci agganciamo a questo cavetto metallico e rimarrà agganciata al cavetto abbiamo questo da attaccare al manubrio della bici o della moto vari ganci snodabili che anche in questo caso poi sta alla vostra pazzia diciamo dove collegarli questo ruota ed infine questo che è un secondo diciamo accessorio vedete ce ne sono davvero tantissime abbiamo anche delle fascettine da elettricista e questo è il manualetto manualetto che è scritto anche in inglese e che nel retro troviamo l'app da scannerizzare da utilizzare con lo smartphone andiamo a mettere via tutto e concentriamoci un pochino sulla action cam io l'ho provata quando sono andato in vacanza l'ho usata per una settimana e devo dire che sono rimasto positivamente sorpreso dalla qualità della semplicità di utilizzo come funziona? davvero molto semplice si accende con il pulsante frontale vedete ci viene la scritta welcome è possibile utilizzare anche la lingua italiana infatti vedete che il mio è in italiano e poi come ci si muove nei menu innanzitutto abbiamo sul lato sinistro qui vedete trovate l'ingresso per la micro sd supporta micro sd fino a 32 gigabyte l'ingresso per la micro usb per ricaricarla o collegarla al computer e l'uscita della micro hdmi per collegarla direttamente al televisore sul lato destro abbiamo due tasti il tasto superiore serve per attivare il wifi attivare o disattivare il wifi da poi utilizzare con l'applicazione press up to return ok mentre il tasto in basso serve poi per effettuare lo zoom perché possiamo anche zoomare digitalmente ma ve lo sconsiglio perché la qualità va veramente a scendere parecchio abbiamo poi nella parte in alto il tasto ok con un led di stato questo tasto ok serve per chiaramente registrare ovvero noi premiamo una volta parte la registrazione questi tasti possono essere utilizzati anche per muoversi nel menu per muoversi tra le varie funzioni di scatto come vedete ora io sono nella modalità video lo vedete perché qua in alto ci sono i minuti e c'è la risoluzione che è 1080 a 30 fps se premo una volta il tasto frontale passo subito alla modalità foto in questo caso scatto a 14 megapixel ripremo un'altra volta mi trovo nella modalità di galleria ovvero l'album dove ci sono tutte le nostre foto e video e possiamo scorrere avanti e indietro davvero molto veloce il software mentre l'ultima è le impostazioni ci sono davvero tantissime impostazioni dove possiamo scegliere la dimensione delle immagini l'uscita tv se visualizzare nel display le scritte l'intervallo di scatto non c'è la possibilità di fare i timelapse diciamo questa si può utilizzare per dire scatta ogni tot di secondi però poi dopo i timelapse vanno fatti diciamo montati con un software di post produzione possiamo scegliere la modalità di cattura la registrazione ciclica se abilitare o no l'HDR ma non è proprio un granché il rilevamento del movimento perché può anche essere utilizzata come una camera di sicurezza perché appena rileva un movimento lei andrà a registrare la qualità di immagine eccetera eccetera la nitidezza l'esposizione stabilizzazione che vi consiglio di disattivarla perché attivata non è che migliori tantissimo e spegnimento automatico eccetera 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 quindi diciamo menu davvero molto molto ricco che ci permette di gestire completamente la camera un altro pressione e ritorniamo alla modalità di registrazione video la comodità è che si può utilizzare dentro al case comodamente grazie grazie ai tasti che sono nel case quindi tranquillamente io quando ero sott'acqua andavo a smanecchiare a cercare tutte le varie impostazioni e a scegliere se volevo fare foto o video è davvero una comodità davvero da non sottovalutare come mi sono trovato con questa action cam diciamo che nel complesso va bene i video sono registrati nel formato .mov e con condizioni di luce buona devo dire che sono davvero discreti chiaramente non siamo di fronte ad una gopro o un action cam di quelle professionali è un action cam entry level che fa il suo sporco lavoro anche nelle foto devo dire che non hanno proprio tantissimi dettagli però in condizioni di buona luminosità devo dire che gli scatti sono del tutto accettabili trovate poi su tecnofon un album con tutti gli scatti effettuati e anche dei video registrati voglio farvi vedere qualcosina se ce l'ho vedete queste qui sono foto che ho scattato sott'acqua anche qua e comunque devo dire che sì ci siamo mentre quando cala la luce le prestazioni calano drasticamente sia le foto che i video sono molto rumorose e non hanno una grandissima qualità questo è un limite che comunque dovete conoscerlo che poi chiaramente sarete voi a decidere se utilizzarla o no di notte se chiaramente uno che va in giro a fare sport lo fa di giorno quindi si presume che la usi di giorno quindi che dire una buonissima fotocamera l'applicazione per android funziona e non funziona abbastanza bene adesso purtroppo non non ho lo smartphone dietro da farvi vedere vi chiedo veramente scusa tuttavia diciamo serve per lo più per scaricare le foto perché comunque è talmente intuitiva che per tutte le impostazioni conviene utilizzare i tasti e il menu che abbiamo perché se andiamo a utilizzare l'applicazione a volte si disconnette e quindi non è proprio molto molto comoda però con android io non ho avuto assolutamente nessun tipo di problema nello scaricare i file ho letto che ci sono dei problemi con ios proverò e eventualmente poi vi farò sapere quindi venditore levin la trovate su amazon ad un prezzo adesso di 89,90 ma se venite su technofon c'è uno sconto del 20% quindi diciamo un prezzo davvero accessibile per una action cam che diciamo da utilizzare senza infamia e senza lode sapendo che comunque è un entry level però assolutamente vengono in condizioni di luce buone dei video davvero accettabili alla fine vi mostrerò qualche video e poi sempre su technofon troverete i file originali da scaricare ciao ciao da Diego un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.